Ok raga, eccoci qui dal pomeriggio che sta scurando o sull'andato via Vi voglio dire, seguitemi e quando vedete, fate i bravi, non fate i cattivi, non fate i scemi State tranquilli, che ci sono io per voi Il vostro Enrico Pasquale Praticogo Tutti le accendo sulla O, ho 29 anni, due nomi Voglio dire bene raga Non volete io non lo dico, lo dico perché a me mi piace C'ho 29 anni e sono di Motta San Juan, provincia di Reggio Calabria Ricordatevi, ok? Mi mancate, io sono forte, sono il numero uno e comando io Sono la star di YouTube, la leggenda, sono famoso Sono una star di YouTube, il re di YouTube E so fare tante video belli Le sto cambiando Salendo, dai, fate i bravi, mamma mia Le sto cambiando i video Il naso Vabbè, il naso è sex Anche voi avete il naso sex Mi dissocio quello che ho detto Mi scuso, perdonatemi I nomi si chiamano così Io le saluto sempre Che loro vogliono, sono contenti E voi siete i miei fan Io sono il loro idolo Grazie Andiamo che oggi parliamo Non so, prendi il cellulare E andiamo dei vecchi commenti Dei video Quelli sotto Quelli del mio canale Andiamo a leggere i commenti Vecchi, vecchi Così porto questo contenuto In un'altra maniera Sex E voi che facette Ok, andiamo dai È meglio Basta così Mostro la mia foto Quando ero piccolo Vabbè, andiamo va Raga, volete vedere Che squadro tifo io La Juve La Regina Italia Sentite là Che dice il Robo Eco Ecco La Juventus Quando gioca Ieri nella Serie A La Juventus ha vinto Contro la Roma Allo stadio Allianz Di Torino Per 1 a 0 La prossima partita Della Juventus Sarà contro lo Zenit San Pietroburgo Mercoledì 20 ottobre Alle 21 Ho risposto Alla tua domanda? Sì Grazie per il tuo feedback Prego Avete visto Caglieri Ha giocato la Juve Con Roma E ha vinto la Juve Aieri Noi siamo i campioni Andiamo Forza Juve Fino alla fine Forza Regina E Italia Che tre squadra Tipo Non è che tifo una A me Bastano queste tre Voi ti fate Quelle tre squadre Bene Io non ho che Voglio insultare I tifosi Le persone Sono contenti loro? Bene Io ti favo tre squadre La Juve La Regina E Italia E voi ti fate Quello che volete O ti fate Lo stesso come me O altre squadre Ecco Quando gioca La Regina Attualmente Nella Serie C Il Reggio Daci e Il Potenza Stanno pareggiando Al Mepi Stadium Città del tricolore Di Reggio E Mie Per 0 a 0 Al sesto Di recupero Del secondo tempo Ecco Quando gioca All'Italia Così dopo Andiamo A vedere I commenti vecchi Del mio Video Vecchi L'Italia e la Svizzera Si affronteranno Venerdì 12 novembre Alle 20.45 Nelle qualificazioni Per la Coppa del mondo Delle Nazioni Europee Ok Dai Basta così Con il RoboEco Andiamo a leggere I commenti I vecchi commenti Dei vecchi video Quelli sotto Del mio canale Andiamo Così porto Un bel contenuto Voglio dire Un contenuto Bellissimo Mi dissocio Ho detto giusto Non è che Voglio Sono italiano Con la brezza e il dialetto Dai andiamo Ok raga Andiamo a vedere Questo video qua Del 2016 Del 2 settembre Del 2016 Di 5 anni fa Andiamo a leggere I commenti Ok Sono 173 Commenti Vediamo Non ci sono Quelli brutti Me ne frego Le lascio Iri e leggo Quelle pulite Anche quelle brutti Comincio Comincio da sopra o sotto La In commenti Leggo i vecchi commenti Voglio dire Non pensate male Voglio andare Sono assai Non posso fare Tutto E dopo Faccio il video Lungo Enrico Sei un grande Grazie Alessandro Alessio E Alessandro Grande Enrico Valerio Vincenzo Sei bellissimo Bravissimo Sei il dio di youtube Anche il mio idolo Enrico Ci fai vedere In un video Come zappi A vigna Per favore Sei un grande Ok Due mesi fa Scritto Ancora lo devo fare Il video Quello che zappavi Grazie per i tuoi video Tu ti adori Grande Enrico Sei un grande Andrea Ti voglio bene Sei un grande Matt Grazie Sei fantastico Antonio Grazie Grazie bro Flam Marco Sei un grande Grazie Marco Mario Un cuorecino Ti adoro Sei un grande Sei un grande 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 Enrico Ti stimo Cioè Enrico Sei un grande Continuo così Se vuoi salutarmi In un video Tre Darkman Ciao Vabbè Di due mesi fa Lo saluto lo stesso Pasquale Violetti Grande Enrico Sei il mio idolo Fra Ciao Mi dissocio Idolo Enrico Sei il migliore Ti seguo sempre Grazie Mattia Ti adoro Davide Ciao Grandissimo Enrico Ciao Andrea Ti adoro Sei il migliore Sei un grande Ehi Sei un grande Anche io sono di Va bene Sei un grande Saluti Un video a me E la mia ragazza Va bene Questa è un settimana fa Scritto Andiamo a leggere Andiamo a leggere Quell'altro Comment Aspettate Che qua Sono assai Raga E 173 E non faccio il tempo E faccio il video lungo Andiamo a leggere Quell'altro Ok Che la prossima Che la prossima Cambiamo altri video contenuti Ok Questo video è Rigo Rigo Sette messe Sette messe Sette messe Nove messe Fa Quattro anni Fa Due messe Fa Cinque anni Fa Commenti belli Sto leggendo i vecchi commenti Dei video Che potete commentare I vecchi video Sotto sotto Sul mio canale Andate E io rispondo lì I commenti Perché non li attivo Dei video Quelli che pubblico Perché Sto pensando State tranquilli Voi commentate Dei vecchi video Ok Quelli sotto sotto Andiamo Ho letto I commenti Del cinque anni fa Dopo quell'altro Cinque anni fa Ora andiamo Di quello Dove è petto Di fuori Di tre anni fa Vabbè Che dura Pochi minuti Ah sì Ci sono i commenti 15 commenti Andiamo veloce E Qua C'è scritto Enrico Vorrei tanto poterti Chiamare O scrivere Come faccio Sei un ragazzo d'oro A non ascoltare Gli altri Sono scemi Un mese fa Un abbraccio Anche a te Enrico Stammi bene Grande uomo Dei Che la vita È bella Lo so Questo video Qua Andiamo Andiamo A leggere Altri Questo video Lo faccio Così Raga Leggo I commenti Vecchi Delle persone Quando pubblicai Quelle vecchi video Quando l'ho fatti E andiamo A tre anni fa Questo è un altro video E andiamo A vedere Lo sto cambiando Questo è un video Che leggo i commenti Quelle vecchi Ehi Enrico Enrico Io sono il tuo primo fan Perché non mi risponde Su Instagram Posso avere Il video Saluto Un mese fa Ciao Enrico Uno e comando Io Andiamo Sra A ieri Ha vinto La Juve E poi Dico Classifica Sra E Sei Talanta Sette Juventus Otto Fiorentina Dopo leggiamo La Juventus Uno e la Roma Zero Decide Vabbè Spadevo Un rivore Chi è Ci sono Nomi strani Sono qua Sono qua Andiamo avanti Ceresette Dato Ah Parlano Della macchina Oroscopo Toro E tutti i segni Di oggi Ah ok In medio Non parliamo Ehi Voi che facete Mi ero Cademia Mi ero Cademia Il cartone animato Che me lo sono Visto Tanto Ah Parlano di Fortnite Annuncio Una nuova Storica Per tutti I giocatori Un giorno Fa Per sopra Fatto danni Medio Il tempo brutto Va bene Corpo di scena Forse Sappiamo Dove si è Nascosto Il nano Pineta Del sistema Solare 5 giorni Fa Formula 1 Calais Laguz Affirmato Per Mercedes Ok Sono qua Sono qua Aspettate Ragazzi Numero 1 Sono comandante Comando io Ho detto che sono il numero 1 Sono una leggenda Sono famoso Sono uno youtuber Sono la star di youtube Il dio youtube Il re di youtube So fare tante cose Io Johnzina Io Menenzina E cucù Sottamamau Andiamo Ora Io mi devo Ricordare Che devo Pubblicare La foto Lo screen Su youtube Nei post O in un'altra parte Del discord Se mi chiamate Facciamo la prossima Un video Delle chiamate Ai fan Che mi chiamate voi O vi chiamo Forse voi Mandate L'amicizia Posso anche chiamare Io Voi Quando volete Io Rispondo a tutti Raga Ok O volete Il numero di cellulare Quello post Amobile Forse le persone Ce l'hanno Quando vogliono Mi chiamano E metto anche Lo screen Del discord Su youtube O in privato O in un'altra parte Così Mi mandate L'amicizia E mi chiamate E a prossima Facciamo un video Che spacca Delle chiamate Sul discord Ok E parliamo E registro un video Così Mi metti Una parte Parliamo Non lo faccio Durare assai Quando faccio Quello video E niente E niente Sono qua Raga Ora lo chiudo Che scuravo Il tempo È pace E là È brutto E vado Mi passo Il tempo Ce l'ho Radio Voglio dire C'è un radio In cucina E sta caricando Quello video La Così Finisce Metto questo qua E faccio un altro O lo faccio prima Quando finisce O lo faccio stasera Che io tutti i giorni Porto i video Per voi Su youtube Che io Che si chiudono E si aprono Anche a voi Non è che solo a me Io sono grande E sono uomo E so fare tanti lavori Zappare la vigna Aiutare a pulire qua Fare i video per voi Mi cambio sempre Mi faccio la doccia Mi lavo i denti Non come voi siete sporchi Che puzzate Smettetela Io mi lavo sempre Mi faccio la doccia Mi lavo i capelli I denti Mangio Dormo Mi riposo Lavoro Ehi Bele mie Salenzo Muti Chiudetela a bocca Sti scemi Perché non la smettete Fate i bravi Io vi voglio bene Non è che voglio Insultare le persone Che non capiscono loro Io sono Calabrete Sono italiano Calabrete E di italiano Ma voglio dire Sono italiano Calabrete E di aletto Volevo dire E mi dissogio John Zina Io Menezine Cucco Sattamamau Sono qua E volete Qua sotto c'è il link Di Amazon Andate tutti A toccare il link Di Amazon Mandate i miei pacchi E Mandate i miei pacchi Così io Le apro Sulle storie Ok C'è il link Di Amazon Qua Toccate la freccia E mandatemi i miei pacchi Ok Seguitemi Quando vedete Scherzi Il canale I miei pacchi I miei pacchi Alla prossima Ciao 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 Si deve ridere Un sorriso a tutti Ciao Belli Ciao 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 Ciao